Nessun gestore disponibile a garantire il servizio passeggeri fra Trieste, l'Istria e l'isola di Lussino. Un collegamento richiestissimo da triestini e turisti e il cui ripristino era stato caldeggiato anche dal rappresentante di Federalberghi, Guerrino Lanci, testimone di tante richieste in questo senso degli ospiti degli hotel nella città della Bora. Nonostante un tentativo in extremis da parte della regione Friuli-Verenzia Giulia, non è stata trovata un'azienda disponibile nemmeno con la gara d'invito studiata per sopperire al bando regionale di inizio estate andato deserto. Le ultime stagioni erano state affidate alla siciliana Liberty Lines che con un aliscafo garantiva ai passeggeri le tappe istriane di Pirano, Parenzo e Rovigno per poi chiudere in bellezza nella baia di Lussin Piccolo. Nel 2019 erano stati quasi 20.000 ai passeggeri che avevano usufruito del servizio. L'amministrazione regionale aveva messo a disposizione 6 milioni di euro per le annate 2024, 2025 e 2026 allo scopo di coprire la rotta da giugno a settembre. Purtroppo ancora una volta la vicenda che aveva sconfinato anche sul fronte politico con accuse della minoranza in consiglio regionale per la mancata organizzazione del trasporto via mare si è chiusa con un nulla di fatto.